Amici, buon pomeriggio, buona serata, buon primo maggio, sono in macchina, si va alle prove, alle prove dello spettacolo che debutta il 3, giovedì, ci siamo, stavo sentendo notiziari, il primo maggio, festa del lavoro, Mattarella, il nostro presidente, ha appena dato un annuncio potentissimo, ha detto basta alle morti bianche, lo volete capire? Basta alle morti sul lavoro, lo disse anche il grande napolitano a cui auguriamo una pronta guarigione, io ricordo quando il napolitano si arrabbiò che questa sia l'ultima delle morti bianche sul lavoro, ragazzi, e noi ancora, si continuano a morire, ragazzi, si continuano a morire sul lavoro, questo non va bene, è la festa del lavoro, bisogna festeggiare i lavoratori, però è anche importante, i lavoratori basta, basta morire sul lavoro, e insomma, ma come ve lo devono dire questi, non ce la fanno più i presidenti della Repubblica, i politici, basta morire sul lavoro, è un impegno che dovete prendere, è una promessa che dovete fare al paese, no, scioperi, aumenti, non ce la faccio arrivare a fine mese, però intanto mori sul lavoro, basta morti sul lavoro, l'hanno detto tutti quanti, che sia una volta e per tutti, di questo e di tanto altro parleremo anche proprio nel nostro spettacolo, al teatro Cometa Off, dal 3 maggio, v'aspetto, buona festa del lavoro, e basta morire sul lavoro. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.